Questa è un'idea che è nata tantissimi anni fa, purtroppo non è mai stata messa in pratica perché siamo timidi, siamo un gruppo di timidi, siamo molto bravi, probabilmente siamo il miglior gruppo del mondo, ma siamo timidi, per cui ci siamo bloccati per tanti anni e oggi finalmente abbiamo infranto questo schermo e siamo passati dall'altra parte, devo dire con soddisfazione di tutti perché questo tour si sta trasformando in una cavalcata trionfale. Arrivate nella capitale dell'Unione Europea, nel giorno del vertice dei leader dell'Unione Europea, ma questa sera quando sarete sul pacco i governi non ci saranno già più, hanno paura del super giovane che è in voi? Sì, so che sono un po' anche preoccupati del fatto che la gente fosse più spinta a arrivare a Bruxelles dall'occasione del concerto di Elio Stelettesi, più che dal convegno di questi grandi, per cui è ovvio che se ne siano andati prima, anche se so che alcuni si fermeranno per assistere in incognito al concerto di Elio Stelettesi. Io sono sempre stato per la squadra, infatti in Italia, che è un luogo di individualisti, ho sempre spinto invece per fare un gruppo, siamo attualmente dopo lo scioglimento dei pull, siamo praticamente la band più antica in Italia e penso che andremo avanti ancora per tanto tempo, quindi io penso che essere uniti sia molto meglio che non esserlo. Dunque di conseguenza penso che l'Europa e gli stati dell'Europa abbiano più vantaggi a essere uniti che a non esserlo.